domani 34esima domenica del tempo ordinario la santa messa delle 10 sarà trasmessa in diretta su etv dal duomo di como e sarà presieduta dal vescovo monsignor oscar cantoni si tratta dell'ultima domenica dell'anno liturgico in cui ricorre la solennità di nostro signore gesù cristo re dell'universo è la festa che celebra la regalità di cristo signore del tempo e della storia inizio e fine di tutte le cose il colore liturgico è il bianco si tratta di una solennità ecumenica perché assieme ai cattolici è celebrata anche da altre confessioni cristiane anglicani presbiteriani metodisti e parte dei luterani la festa fu introdotta 95 anni fa da papa più undicesimo con l'enciclica quas primas dell'11 dicembre 1925 a coronamento del giubileo che si celebrava in quell'anno coincidendo con la fine dell'anno liturgico la solennità di cristo re ribadisce come gesù sia l'inizio e la fine di ogni cosa o come si legge nell'apocalisse egli è l'alfa e l'omega in questo 2020 l'ultima domenica dell'anno liturgico assume un significato particolare per buona parte della chiesa cattolica italiana perché è l'ultima domenica nella quale si usa il messale romano secondo la domenica prossima che sarà la prima di avvento molte diocesi fra cui quella di como insieme alle altre chiese lombarde vedranno l'entrata in vigore della terza edizione del messale romano fra le novità l'utilizzo della nuova formulazione del gloria e del padre nostro grazie alla collaborazione tra la diocesi di como ed espansione tv da mesi ormai la celebrazione della domenica mattina entra direttamente nelle case dei fedeli in questo modo è possibile soprattutto per gli anziani le persone più fragili malati e anche a chi si trova in isolamento seguire la messa in totale sicurezza oltre che in televisione è possibile seguire il rito anche sul sito e sulla pagina facebook dell'emittente grazie a tutti grazie a tutti